Buon sinistra, buon sinistra, viva via a ginocchio, calcate! Avete un ultimo desiderio, potrei fare una telefonata. Pronto Mario, come stai? Io bene, bene. Sono con degli amici, sì, sì, sta bene. No, è l'altro, il piccolo, cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e sa mala. No, domenica non vengo, per fare 30 chilometri ci vogliono tre ore. Dai, parliamone per telefono, che conviene. Scusi, posso poter avere una sedia? Grazie. Allora, vai al mare quest'estate? Beh, a volte, no, io non ci riuscirò. Teresa ha i parenti in montagna, lo sai, poi lì si passeggia, ti viene fame, mangi. L'anno scorso ho preso tre chili. Vabbè, sì, ti lascio. Ci sentiamo. Salutami Marco. Ah, è lì? Passamelo allora. Marco, che fine hai fatto? Meno male che c'è il telefono, come stai? Una telefonata allunga la vita. Grazie. 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 Grazie.